Che bello qui nella postazione Sanremese di Radio Bruno, è venuto tre... sì ciao ripeto Ho bevuto troppi caffè Che bello amici di Radio Bruno, qui a Sanremo nella nostra postazione Fred Palma, ciao Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti Raccontaci un po' del pezzo Sanremese, com'è nato? Ma guarda, è nato prima di quest'estate, è stato un po' un pezzo che appunto è uscito fuori in una session che stavo facendo Diciamo che non è nato prettamente appunto per fare Sanremo, però poi mi sono reso conto che era il pezzo giusto per farlo Perché mi rappresenta proprio al cento per cento in questo momento E niente, sono contento di cantarlo sul palco, comunque la prima volta è sempre un... Un impatto forte Forte, sì 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 Ma è il messaggio più bello che ti è arrivato, il whatsappino più bello dopo l'esibizione? Hai spaccato, un grande classico ma fa sempre effetto Però è proprio così, e spaccherai anche venerdì, nella serata delle cover, insieme agli FL65 Sì, bellissimo, non vedo l'ora di stare sul palco con l'orio, come ho detto anche in altre occasioni, sono un mega fan Proprio da quando ho ragazzino, quindi veramente totale Però raccontaci un po' com'è nata, li hai contattati tu, siete già amici da tempo? In realtà non ci conoscevamo, ma diciamo che per Sanremo mi sembravano la scelta più coerente anche col brano che portavo E anche per una questione di storia mia personale, loro comunque rappresentano molto la mia adolescenza Quindi quando ho iniziato ad approcciarmi con la musica, quindi visto che debuttavo per la prima volta a Sanremo Lo puoi partire anche un po' dall'inizio, dal principio Eh, com'è affrontato questa avventura? Anche proprio mentalmente per mantenere la concentrazione in tutti questi giorni? Ma guarda, in realtà finché non sei sul palco non ti rendi conto di cosa stai facendo Poi quando stai sul palco ti rendi conto di dove sei e cosa devi fare, quindi insomma cerchi di andare dritto Vabbè, però prima ci sono state magari delle prove, ti sei emozionato sentendo anche l'orchestra Sì, bellissimo, è stato un impatto molto bello anche con l'orchestra perché per mio parere personale hanno valorizzato molto il pezzo Quindi, figo Sanremo, tu sei sempre stato fan, l'hai sempre visto da casa, c'è una canzone negli anni che ti è piaciuta particolarmente? Ma guarda, in realtà Sanremo l'ho riscoperto negli ultimi anni e vabbè, ovviamente lo guardavo da piccolo con la famiglia, eccetera In questo momento di una canzone anche del passato? Certo, sì Ah ok, super, allora Vasco Beh, ovviamente Ovviamente, sì Ti piace vincere facile e hai fatto bene Bene, no, veramente, però quel pezzo è incredibile, anche l'attitudine sul palco è totale, capo indiscusso Con questo allora salutiamo Fred De Palma, grazie mille Grazie mille a voi, ciao a tutti